La gente ci ha chiesto di mandarle questo filmato, che verrà conservato come testimonianza nella Casa della Cultura. La gente ci ha chiesto di mandarle. La gente ci ha chiesto di mandarle. La gente ci ha chiesto di mandarle il futuro e li aiuta a salvaguardare la loro terra, il loro ambiente e il loro modo di vivere. Aggiungi la tua voce alla nostra associandoti a Survival. La gente ci ha chiesto di mandarle. La gente ci ha chiesto di mandarle. La gente ci ha chiesto di mandarle. La gente ci ha chiesto di mandarle.